Andiamo avanti con la politica, vediamo a Mottola la presentazione del candidato al Consiglio Provinciale del Partito Democratico, una presentazione alla presenza dell'assessore al bilancio Michele Pelillo, Alessandra Cavallaro. Luigi Pinto, medico, già consigliere comunale a Mottola, è il candidato del Partito Democratico per il Collegio Provinciale alle prossime elezioni di giugno. La presentazione della sua azione politica durante un incontro convocato nella sala conveni di Via Van Vitelli. Il suo intervento chiarisce il perché della sua discesa in campo. Io ho accettato questa candidatura, l'ho accettata come espressione di un momento di sintesi, consentito che io abbia accettato in questa maniera che sia una candidatura che rappresenti l'unità del Partito Democratico e un'unità a duratura. A Mottola, volti noti del PD hanno sostenuto la candidatura di Luigi Pinto. Rocco Ressa, sindaco di Palagiano, Michele Mazzarano, vice segretario regionale del Partito Democratico, nonché l'assessore regionale al bilancio Michele Pelillo. Il dottor Luigi Pinto è una persona molto amata, molto stimata qui a Mottola, certamente conseguirà un grande risultato elettorale. Allora vedo il mix giusto, quindi i giovani che cominciano ad assumersi responsabilità. Il partito insieme ai vecchi che è tutto unito intorno a una candidatura di una persona molto stimata, di un professionista che opera da tanto tempo molto bene su questo territorio. Beh, è una cosa che ho imparato che darà i suoi frutti. Penso che questa sarà una delle candidature più competitive nella nostra lista.